La terapia delle patologie ematologiche ha conosciuto degli enormi progressi negli ultimi dieci anni. Rimangono però ancora dei bisogni da colmare sia dal punto di vista della cura ma anche per quanto concerne l'accesso ai farmaci. Noi ne parliamo con Giuseppe Toro, presidente di AI, l'Associazione Italiana Leucemia e Linfomi e Mieloma, che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso di un evento con la stampa scientifica durante il quale è stata presentata una nuova opzione di cura per la leucemia linfatica cronica e per il linfoma della zona marginale. Presidente, prima di parlare della novità volevo chiedere quali sono i bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti ematologici, soprattutto da chi è colpito da patologie ematologiche rare, ma non solo. Cosa resta da fare, presidente? I problemi del paziente ematologico, ma in tutte le patologie che riguardano i tumori del sangue, sono quelli della presa in carico del paziente. Il paziente oggi non viene preso in carico in maniera ottimale. Se sul fronte della ricerca, sul fronte dei farmaci abbiamo fatto dei grossi passi avanti, sul fronte della presa in carico, del benessere del paziente e della sua accessibilità alle cure, ancora c'è tantissimo da fare. Ecco, Aile da oltre 55 anni ha messo in piedi un welfare assolutamente innovativo, soprattutto per l'epoca, ma adesso è arrivato il momento in cui le istituzioni devono fare un passo avanti, fare proprie le intuizioni dell'associazione, le intuizioni dell'Aile e fare diventare le opere dei servizi dell'Aile, delle realtà per i malati, in tutto il territorio nazionale. Oggi è una giornata importante, almeno per alcuni dei pazienti ematologici, soprattutto quelli colpiti dall'eucemia linfatica cronica e dall'infoma della zona marginale, perché c'è un farmaco che ha tenuto l'indicazione per queste due patologie. Come commenta questa notizia? Ma è una giornata importante, perché intanto si dà risposta ad una patologia rara, una malattia rara, perché è importante che i ricercatori investano tutte le loro capacità in queste patologie che riguardano in fondo pochissimi malati. L'altro fatto importante è la rapidità finalmente con la quale l'AIFA ha accolto questa innovazione. Ecco, su questo bisogna che su tutti i farmaci che vengono già approvati dall'EMA, ecco l'Italia faccia presto. Sono oltre 400 i giorni che passano dalla registrazione dell'EMA a quella dell'AIFA e questo non va assolutamente bene, perché sono i giorni in cui molti pazienti restano senza terapia innovativa. Questa volta però è andata bene, quindi c'è un segnale positivo. Questa cosa è andata bene, ma non tutte invece vanno bene, perché generalmente passano oltre 400 giorni dall'approvazione dell'EMA a quella dell'AIFA, senza contare poi la registrazione che deve avvenire nei prontuari regionali, perché questo aggrava ancora di più. Bene, su questo ecco l'AIL spenderà tutta la sua forza perché questa possibilità ai malati venga data subito. Quanto è importante la ricerca? Qual è il ruolo di AIL come promotore di ricerca? La ricerca è stata la grande penalizzata nelle risorse statali ed è necessario che su questo si investa. Ecco, il nostro Paese non può restare indietro rispetto agli altri Paesi. La società civile fa molto, negli ultimi anni i privati hanno sostenuto la ricerca in maniera importante, non solo l'AIL ma anche le altre associazioni hanno fatto tantissimo su questo fronte, ma è necessario che lo Stato si impegni in maniera seria su questo fronte. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti